buongiorno dottoressa salve si accomodi pure vediamo un po' il suo album fotografico eh oh che belle ecografie che abbiamo qui noto la presenza di stafilococcosaurus che poteva aver provocato la sua infezione del biocoller allora gliela spiego in maniera che anche un minus abens come lei possa comprendere io in realtà lo so cosa vuol dire è medico per caso no perché le ricordo che io sono il medico e lei il paziente quindi se gentilmente mi fa finire di parlare grazie allora praticamente il suo intestino è come un treno viaggia ad alte velocità in perfetto orario ma pro tempo e perché appena mi cambia un attimo l'alimentazione il treno deraglia mi fa tavola rasa della sofflora intestinale che non è niente di grave ma è un passo dall'aretto colite lucerosa ed è giovane non può mica rischiare di morire da un giorno all'altro per cui mi prende due scatole di argomenti 625 uno al mattino dopo la colazione ma stomaco vuoto e uno alla sera non prima della cena ma dopo la merenda clavumo 503 prima che ricalocanti due volte dopo la seconda evacuazione del giorno lacto florene plus due al giorno con almeno 6 litri d'acqua e facendo 3 caperone mentre le ingoia se non ha capito tranquillo tanto trova tutto scritto qua sono 345 euro più viva proprio che è fuori arrivederci